L'iscrizione al prossimo campionato di Serie B per la Futsal San Giovannese è cosa fatta. Dopo che anche la composizione della Rosa a disposizione di Mr. Toria sta giungendo a termine, si attende la comunicazione sulla natura della categoria. È chiaro che in Casa Azzurra si vuole sapere i nomi delle avversarie che troveranno sulla loro strada l'anno prossimo. Per avere notizie ufficiali bisognerà attendere la fine del mese, visto e considerato che gli eventuali ricorsi saranno esaminati entro giovedì 28, operando così per i ripescaggi. Ma stando alle voci che circolano, la squadra azzurra dovrebbe essere inserita in un girone a 13 squadre, con le altre toscane quali l'Appoggi Bolsese, la Futsal Pistoia, il Città di Massa, il Cuspisa, i Bulls San Giusto, la Matta Agnanese e il Monte Calvoli. Le squadre liguri sarebbero il Tiguglio e il San Lorezzo Genova. Infine ci sarebbero le Sarde Città di Sestu, l'Elmas e la Mediterranea Cagliari. Tutto ufficioso ma molto probabile.